C'è un filo doppio che oramai lega da diversi decenni il comune di Borgo alla città toscana di Prato. Un filo legato sia alla storia ma soprattutto ad una solidarietà che con il passare del tempo ha via via sempre più unito i rispettivi cittadini ed amministratori. E non è un caso che ci troviamo qui con il sindaco di Borgo Enrico Galvan e alle nostre spalle soprattutto c'è Viale Città di Prato. Siamo qui proprio per raccontare e promuovere una iniziativa messa in campo con il corpo dei vigili del fuoco volontari di Borgo e la cassa rurale Valsugana e Tesino. Vero sindaco? Sì, nei primi di novembre come è noto c'è stata questa grave alluvione che ha colpito la Toscana e in particolare la città di Prato e quindi è stata subito messa in campo questa iniziativa che vuole provare a dare una mano alla città amica di Borgo Valsugana. Infatti fin dall'epoca della prima guerra mondiale quando Borgo Valsugana era stata occupata dall'esercito italiano un colonnello di Prato, il colonnello Nannicini si era impegnato davvero tanto per i profughi, per le famiglie borghesane e il riconoscimento che Borgo gli aveva dato era proprio il riconoscimento come cittadino onorario e da lì è nata questa amicizia che negli anni è sempre proseguita, ogni anno ci invitano e partecipiamo al corteggio storico di Prato e quindi un rapporto anche istituzionale importante e quindi in questa occasione drammatica per loro abbiamo ritenuto importante avviare questo processo di aiuto con l'apertura di un conto corrente che servisse proprio a trovare un'iniziativa condivisa che potesse farli anche ripartire con questa nostra azione di solidarietà. La raccolta di fondi è solo una delle iniziative che si vogliono mettere in campo ma cosa bolle in pentola? Sarà il conto corrente aperto fino a fine dicembre per le festività, passa in sovraimpressione anche il codice che vi chiedo di segnarvi ed è all'interno delle varie iniziative culturali che organizzeremo, cercheremo di promuovere questo conto corrente, delle iniziative che possono essere anche stimolanti per altri enti di poter dare una mano e contribuire insomma alla ricrescita, alla rinascita e alla ricostruzione in qualche modo, in qualche zona della città di Prato. Caro Enrico, cari amici di Borgo Valsugana, noi vi siamo grati. Per noi la vostra amicizia, la storia che fra l'altro il sindaco ha raccontato, la relazione che c'è fra le nostre comunità è una storia a cui teniamo, che abbiamo a cuore e che sentiamo come nostra e quindi vi consideriamo davvero amici di questa città. Beh quello che state facendo lo dimostri, per noi è qualcosa di importante, siamo stati colpiti da un disastro naturale che mai avevamo vissuto, le ferite sono tante, profonde, stiamo ripartendo. Questa è una città abituata a rinciarsi le maniche della camicia e a rimettersi a lavorare, però certo che due miliardi e mezzo di anni stimati, tante aziende ancora ferme, case delle persone devastate, insomma sono lì a ricordarci quanto la violenza dell'acqua e del fango ci abbia fatto male. Sentire l'amicizia, prima di ogni altra cosa, di tante comunità e della vostra, in primis è qualcosa però che conforta, ci dà fiducia e soprattutto ci spinge a lavorare ancora e di più per ripartire subito con il nostro cammino e soprattutto per riaccogliervi nella nostra città al meglio e nelle condizioni più efficaci possibili, perché lo sapete qui non siete ospiti ma siete a casa vostra. Grazie davvero a tutti voi. La conclusione della raccolta fondi con l'amministrazione di Prato, con il quale il sindaco mi sono già sentito in queste settimane appunto per annunciargli questa nostra iniziativa, ci ritroveremo insieme ai vigili del fuoco, insieme a tutte le associazioni che vorranno magari promuovere qualche iniziativa per decidere come contribuire a questa ricostruzione, come investire queste risorse che la comunità di Borgo e della Val Sugana avrà inteso trasferire per questa iniziativa, quindi insieme decideremo come ridare questa nostra amicizia anche a Prato. Grazie.